Bene, come anticipato abbiamo in videocollegamento con noi Antonio Stasi, professore ordinario di economia politica e agroalimentare presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Foggia. Buongiorno prof, ben trovato. Buongiorno Tony, ben trovato, contento di vederti, grazie per l'invito. Grazie a te per la disponibilità, ci fa molto piacere entrare in connessione col mondo delle università, questi presidi culturali preziosi che diventano laboratorio per le professionalità che si occupano dell'umanità, delle collettività, delle comunità così preziose. E come anticipavo ancora prima che entrassimo in collegamento, anche attraverso tutta una serie di progettualità e laboratori che vanno a declinare quella teoria, quei concetti teorici che si sviluppano attraverso i programmi e avvicinano i giovani al mondo del lavoro per farli entrare già da studenti universitari e poi da professionisti nella carne viva della società in cui viviamo. Prof, con lei vogliamo parlare del progetto Creative Hubs che state sviluppando a Foggia, per cui ecco ti chiederei di raccontarci che cosa sta succedendo nella tua facoltà. Allora il progetto Creative Hubs non perché io ne sia il responsabile scientifico, ma è davvero molto interessante e innovativo. La stessa parola Creative implica la presenza dell'industria creativa all'interno di questo progetto che si occupa di sviluppo rurale e di connessioni tra ricerca e aziende dell'agroalimentare. Quindi questo è un progetto innanzitutto che parte da un finanziamento interreg, quindi un programma di collaborazione fra Italia e Grecia, in particolare fra Puglia e Grecia, in cui si sono sviluppate e ideate delle attività in comune, quindi così come in Italia anche da loro hanno sviluppato degli hub con una base di creatività per supportare dei settori strategici dell'economia. Le attività di Foggia hanno previsto da una parte lo sviluppo di una struttura presso l'ente fiera di Foggia che è pronta, a breve sarà inaugurata ed abitata, che sarà un hub di innovazione di Creative in cui si elabora questa commissione tra creatività e sviluppo rurale, attraverso diversi strumenti, come abbiamo visto dalle immagini che sono andate di background. Uno degli strumenti, ad esempio, sono gli osservatori di mercato. Abbiamo già attivato un osservatorio che si era andato a cercare sui social, si chiama Falux, Food and Agri Lux, dove portiamo alla luce delle innovazioni, dei dettagli sulle ricerche, delle analisi di mercato che hanno la caratteristica di essere fruibili a diversi livelli di comprensione e di capacità di analisi dell'audience. Partiamo dai post social delle infografiche con tre livelli di approfondimento fino al dettaglio scientifico e del dato tecnico. E poi c'è la questione dei living lab, ossia dei liberi e propri laboratori di persone dove all'interno ci sono ricercatori e aziende che discutono e sviluppano progettualità cooperative per lo sviluppo di progetti strategici e di sviluppo del territorio, sempre dal punto di vista agroalimentare. Il progetto è molto interessante. Abbiamo visto che il coinvolgimento è attivo tramite dei contratti di 13 giovani ricercatori che anziché andare via sono rimasti qui sul territorio e hanno collaborato allo sviluppo delle attività di questo progetto, ma abbiamo avuto anche dei giovani internazionali, ad esempio come Senur dall'Iran, che ha portato anche questo tocco di internazionalità. Lei si è occupata, ad esempio, dello sviluppo rurale nel settore dell'olivicoltura. E quindi è un progetto davvero innovativo che apre le porte alle aziende del nostro territorio affinché si crei questa collaborazione con l'università arricchita dalla questione della connessione con l'industria creativa. Ecco, prof, intanto stiamo vedendo anche il sito ufficiale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell'Università di Foggia. Ma fammi dire anche un'altra cosa. A parte l'aspetto molto rilevante del drenaggio della fuga di cervelli che i nostri territori hanno vissuto e stanno ancora vivendo, l'università diventa un presidio straordinario da questo punto di vista per drenare questa fuga e magari per attirare nuovi cervelli. Sarebbe bello ripensare tutta la nostra Italia, in maniera particolare l'Italia meridionale, è il luogo da dove stereotipatamente si è sempre partito, farlo diventare un luogo invece di destinazione, dove non solo si può tornare ma si possono accogliere talenti. Da questo punto di vista proprio, abbiamo vissuto un altro cliché negli anni che ci siamo lasciati alle spalle, quello che la campagna, l'agroalimentare, fosse un settore da cui fuggire. Invece la nostra Italia, ma un po' tutto il bacino mediterraneo a cui facevi riferimento anche tu, è un territorio straordinariamente vocato alla produzione agroalimentare che è una ricchezza tanto quanto la nostra storia, la nostra arte. Spesso diciamo che l'Italia è un museo a cielo aperto, ma probabilmente è anche un giardino dell'Eden a cielo aperto, dove nascono e vengono coltivate tante bontà che poi sono diventate celebri anche perché rientrano nell'altrettanto celebre dieta mediterranea. Sì, allora la questione chiave è questa, che siamo passati da questo periodo di grande sfiducia nei confronti dell'agroalimentare in cui si produceva produzione di massa ad una fase, ora quella attuale, dell'economia del valore, dove si cerca di tirare fuori il valore delle produzioni per portarle sul mercato in una condizione di prezzi e anche di presentazione di dignità anche del produttore stesso, differenti rispetto a prima. Bene, il vantaggio del nostro essere italiano, del nostro territorio, del patrimonio di biodiversità, sta nel fatto che abbiamo delle possibilità di tirare fuori il valore che può essere di qualità, di tradizione, di cultura, di creatività dai nostri prodotti molto più elevato rispetto ad altri paesi e ad altre regioni, se vogliamo mettere al centro dell'attenzione della Puglia. Quindi c'è ampio spazio per i giovani con grandi competenze, con competenze elevate, di lavorare alla ricerca e alla possibilità che si dà ai nostri prodotti di essere considerati di un valore maggiore, di essere valorizzati ulteriormente e quindi c'è lavoro per tutti coloro che vogliono operare in questo ambito di economia del valore. La creatività servirà quindi poi a comunicare attraverso tutte le forme d'arte, non solo quella che è la comunicazione normale, a comunicare questo valore aggiunto dei nostri prodotti e creare un'esperienza ancora più ricca che sicuramente porterà dei benefici alle nostre economie. E da questo punto di vista è davvero prezioso il tuo lavoro, un lavoro che svolgi anche fuori dall'università nel tempo libero con processi, progetti socioculturali innovativi come Whatsapp, di cui conosciamo il founder Giuseppe Savino e che tu tante volte appunto affianchi e fai parte di questo team fantastico di giovani professionisti che stanno trasformando appunto la produzione agroalimentare anche attraverso un linguaggio semantico che ci aiuta a gettare uno sguardo nuovo su questo settore. L'esperienza di Whatsapp è molto significativa perché ora al di là delle questioni tecnologiche, scientifiche, Whatsapp fonda le sue riflessioni sulle questioni umane e relazionali. da lì si genera insomma tutti quelli che sono gli esperimenti che abbiamo condotto con l'associazione anche perché abbiamo riflettuto a lungo sulla difficoltà a cooperare quando la cooperazione può essere una leva importantissima per lo sviluppo economico. La cooperazione come base è la relazione umana quindi gli esperimenti come quello di Contadinner servivano appunto a creare questa relazione a umanizzare quello che può essere un rapporto di lavoro o di cooperazione per come inteso magari nel settore agricolo e renderlo anche più, oltre che più umano più divertente e più significativo e soprattutto più sostenibile nel tempo la relazione anch'essa ha bisogno di sostenibilità per portare dei frutti nei settori economici. Poi insomma con Whatsapp abbiamo continuato a fare tantissimi esperimenti in ultimo quello dei campi della bellezza che anche loro hanno un concetto di relazione la relazione tra città e campagna la consapevolezza del proprio territorio genera appartenenza partendo da questo concetto il fatto di poter mettere il piede dentro un campo agricolo per il fatto che sia bello che sia attrattivo eccetera eccetera genera consapevolezza di quella fetta del nostro territorio e quindi se la consapevolezza genera appartenenza quando uno sente che una cosa appartiene poi non la degrada la considera come sua la prende a cuore quindi l'obiettivo è appunto generare questa relazione col territorio che sia più forte rispetto a prima. Grazie, grazie mille prof ci piace tantissimo questo modo di interpretare l'agroalimentare questo modo di vivere far vivere l'università per cui siamo davvero grati per i professionisti come te che stanno generando questo prezioso cambiamento quindi invitiamo i nostri telespettatori a seguire il professore Stasi sui suoi canali social per seguire il filo del racconto delle iniziative dei progetti che vengono svolti in università e fuori dall'università e ovviamente gettare uno sguardo anche sul sito ufficiale della Facoltà Diagraria dell'Università di Foggia che sta diventando un bel punto di riferimento nazionale. Prof tienici aggiornati sugli sviluppi di Creative Hubs e degli altri progetti di cui sei parte per cui speriamo di ritrovarti in futuro. Grazie Grazie Tony grazie a tutti e buona giornata. Grazie a te buon lavoro grazie per aver dedicato a Padre Pio TV del tempo prezioso e speriamo di ritrovarti presto. Io nel frattempo do la linea alla regia noi ci ritroviamo subito dopo con l'angolo di pagine d'autore. grazie a te